Dall'olio alla pasta senza tralasciare il pane, il vino e lo zafferano. Così l'Abruzzo si presenta da lunedì 7 febbraio all'Expo di Dubai, nella settimana dedicata all'agri-food. Saranno 25 le aziende partecipanti per un totale di circa 120 prodotti in vetrina. Abruzzo sostenibile a Dubai per una serie di appuntamenti per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e favorire l'apertura su nuovi mercati. La novità vera è quello che dicevamo prima, cioè l'opportunità di mettere a disposizione delle aziende strumenti innovativi di processi di internazionalizzazione. Ci sono delle aziende e dei prodotti che hanno già ormai un brand internazionale. Noi dobbiamo far crescere tutto il modello, tutto il sistema abruzzese, questa è la vera sfida. E per questo mettiamo a disposizione questi strumenti, grazie anche all'attività del nostro braccio operativo che sarà ARAP, che servono proprio per far questo. L'Agenzia regionale per le attività produttive braccio operativo della regione punta con questo Expo a far cambiare l'approccio per dare alle aziende risposte, soprattutto dal punto di vista economico. Di non fare una comparsa istituzionale, ma di rendere questa missione efficace per l'obiettivo che ci si era prefissi di portare l'Abruzzo nel mondo, i prodotti abruzzesi nel mondo, cercando di rafforzare i canali di vendita e i canali commerciali attraverso l'utilizzo del mezzo dell'Expo universale. Il padiglione Abruzzo sarà presso l'hotel Hilton. Qui avverranno incontri B2B, B2C, ma saranno presenti anche social media e influencer fondamentali per la rete. Loro si aspettano comunque di far conoscere sempre di più i loro prodotti, in un contesto di far conoscere sempre di più i prodotti abruzzesi. Questo è il nostro risultato. Poi conteremo la bontà di questa missione attraverso quanti contatti ci sono stati, che tipi di ragionamenti si faranno e che prospettive ci saranno.